nella nautica quando pensiamo a qualcosa di estremamente elegante raffinato di gran classe il pensiero corre immediatamente a un motoscafo riva ma se volessimo qualcosa di ancora più grande e di più potente ecco 88 folgore di riva 27 metri di lunghezza ma omologato entro i 24 metri nel limite delle imbarcazioni da di porto fino a 5.276 cavalli di potenza complessiva comincio a capire perché lo abbiano chiamato folgore è diverso dagli altri grandi yacht riva è più sportivo le sue linee denotano una accurata ricerca di stile e di innovazione ma sempre con l'intento di farlo riconoscere come un prodotto riva anche da chi non lo conosce affatto per esempio i fianchi a poppa non sono spezzati dal bottazzo che solitamente congiunge scafo e coperta il parabrezza alla base cambia la sua inclinazione questo è uno dei nuovi stilemi del brand riva nuovo e classico al tempo stesso il corrimano è di carbonio e acciaio ma l'avviamento della plancia bagno è di mogano appartiene alla tipologia definita sport fly per la presenza di un ponte superiore poco visibile ma godibile la postazione di comando è al centro e tutt'attorno si sviluppano divani e sedute rivolto verso poppa c'è il prendisole tutto il fly come optional può essere ombreggiato con un tendalino tirato tra pali di carbonio sistemati in un apposito gavone ed ecco una bella novità l'apertura sopra la scala scivola sotto il prendisole hanno dato molto spazio all'area prodiera che è arredata con il classico solarium e un importante lounge che può essere anche questa ombreggiata con una tenda è prevista una cappottina elettrica sul prendisole anche il pozzetto è molto esteso e vi ha trovato posto un bar dotato di piano a movimento elettrico e perfettamente attrezzato per i cocktail sul lato opposto c'è un mobile dove potete installare un frigo un ice maker i divani possono diventare un prendisole ma osservate il design dello schienale minimale stupendo i tonneggi disturbano un po' l'eleganza meglio nasconderli nel garage il tender può essere lungo fino a 395 centimetri e accanto resta ancora lo spazio per la moto d'acqua un sistema facilita il varo e l'alaggio inclinando la piattaforma bagno che poi torna piana per dare spazio al beach club chi sceglie riva sa che negli interni troverà un'atmosfera di assoluta eleganza e che il suo yacht come la sua residenza deve avere un'accoglienza straordinaria con zone di soggiorno e aree di servizio garbatamente nascoste nel salone l'altezza è di due metri e mentre volgiamo lo sguardo in alto approfittiamone per vedere il celino e il sistema di filtraggio della luce e dell'aria sotto il tetto che si alza con due diversi movimenti il tavolo da pranzo è per otto persone ci sono due mobili contenitori per piatti, bicchieri e tutto quel che serve per pranzare a bordo sembra una decorazione e invece è un utilissimo corrimano sono quattro le cabine sotto coperta questa è la suite armatoriale e dovrei descrivervela in modo speciale ma non trovo le parole nella cabina armatoriale l'altezza è di due metri e venti e la superficie è di 24 metri quadrati non ho mai visto una suite di questa eleganza e dimensione su una barca di questa misura sembra marmo pieno ma in realtà è un sottile rivestimento marmoreo su un supporto ultraleggero le barche vanno fatte così sono previsti diversi layout con due cabine armadio oppure con una cabina armadio e un lussuoso vanity o ancora con una cabina armadio e due bagni separati tra la suite e il bagno una separazione non solo ottica ma anche acustica il televisore è incorniciato da profili d'acciaio nella VIP a prua i materiali e i loro colori sono gli stessi degli altri ambienti ma qui il contrasto è ancora più forte armadio e porta del bagno quasi si confondono ci sono altre due cabine per gli ospiti una con due cucciette e un'altra con il matrimoniale entrambe hanno un meraviglioso faccio sul mare una nota per l'equipaggio questo yacht ha un manuale elettronico quindi per rispondere a qualsiasi curiosità basta effettuare una ricerca digitale e avrete subito la risposta scendiamo a vedere la cucina è chiusa con una porta scorrevole per evitare che gli odori possano salire nel salone superiore un paio di dati 419 litri di volume per il frigo e 247 litri per il congelatore questo è il quartiere equipaggio con due cabine quattro posti letto la zona mensa la lavanderia e l'accesso alla sala macchine a proposito è ora di andare a navigare in plancia abbiamo tre display fanno parte del sistema integrato multifunzione di controllo dell'imbarcazione della navigazione e dei motori sviluppato dal gruppo ferretti con simrad in pratica da questi monitor si può controllare qualsiasi impianto dello yacht per esempio adesso attiviamo il joystick e vediamo il comando attivato qui sullo schermo possiamo decidere sempre da questo schermo di attivare anche il dynamic position system questa è la funzione denominata ancora elettronica sentite l'elica di manovra di prua che sta lavorando la sua azione è combinata a quella dell'elica di poppa e dei motori di propulsione serve per tenere la barca ferma in una determinata posizione e direzione ma se vogliamo manovrare in maniera più silenziosa sempre attraverso il display posso decidere di ridurre la potenza delle eliche oppure addirittura di eliminarle per manovrare soltanto con i motori su uno yacht di 27 metri è fondamentale disporre di uno strumento di questo tipo che permette anche all'armatore di manovrare la sua barca ma con il joystick posso condurre anche l'imbarcazione in navigazione alle andature di crociera quando spingo avanti il joystick aumenta il regime dei motori e quando lo rilascio proprio quello stesso numero di giri viene mantenuto se voglio rallentare basta tirarlo indietro ma non basta state a vedere posso usare il joystick anche come timone la funzione in questo caso si chiama tiller lo spingo a sinistra e la barca vira prontamente a sinistra e la stessa cosa naturalmente dal lato opposto la reattività è fantastica adesso però voglio prendere io il comando dell'imbarcazione nella maniera più tradizionale inseriamo le manette e una mano sul timone e andiamo a navigare l'impianto di propulsione è composto da due tradizionali linee d'asse e due motori MTU appartengono alla serie 2000 il modello M96 sono dei 16 cilindri AV tratti a 2638 cavalli di potenza o se preferite vi danno l'88 folgore anche con la versione depotenziata a 2435 cavalli è una taratura che serve ad allungare la vita dei motori ma su un'imbarcazione da di porto direi che è piuttosto inutile limitare la potenza ora immaginate avere un'imbarcazione di questa classe con tutti questi cavalli con tutta questa potenza direi che avete davvero tutto basta veramente poco per arrivare a 20 nodi di velocità i motori sono a solo 1500 giri minuto e il consumo di carburante è di circa 18 litri per ogni miglio di navigazione prendiamo un dato relativo al comfort in questa situazione una media di 65 dBA tenete però presente che in questo momento stiamo navigando sul mare mosso ma la situazione è davvero ideale sia in termini di movimento dell'imbarcazione sia per quanto riguarda l'acustica, il sound le oscillazioni sono però in parte frenate anche dallo stabilizzatore giroscopico adesso aumentiamo un po' la velocità inserisco il sistema automatico di controllo dell'assetto e della sbandata di Humphrey si tratta di interceptor che ci permettono di trovare il giusto angolo di incidenza in modo che non dobbiamo preoccuparci di trovare le migliori prestazioni regolando noi l'assetto e poi questo sistema ci permette anche di ridurre l'angolo di sbandata osservate questo timone sto virando, lo lascio andare torna al centro da solo che cosa succede? si tratta della funzione autocourse sviluppata dal gruppo Ferretti in collaborazione con Xenta sappiamo che sugli yacht dobbiamo continuamente tenere una mano sulle manette e una sul timone perché per effetto della corrente, del vento, delle onde, la nostra direzione non è mai precisa ma viene continuamente cambiata e noi dobbiamo correggerla qui su questo yacht con questa funzione autocourse non dobbiamo fare niente è l'impianto che tiene la barca perfettamente nella giusta traiettoria e quando decido di cambiare rotta do l'angolo di barra che mi serve lascio andare il timone e la funzione autocourse si riattiva per mantenere questa nuova traiettoria adesso proviamo ad aumentare un po' la nostra velocità 25 nodi il comfort acustico non è cambiato i giri sono 1800 e il consumo è di 21 litri per ogni miglio a 30 nodi siamo ancora abbondantemente al di sotto del regime di crociera dei motori ma quanto va veloce questo 88 folgore? giù la manetta i giri stanno aumentando, sta salendo anche la velocità il GPS adesso segna 37, 38, 39 nodi ho le idee maledettamente confuse adesso non so se scegliere questo yacht per la sua classe o per le sue prestazioni forse per entrambe grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.